Una vita trame spagnole, ecco come uscirà di scena Maria Luisa. Gli spoiler spagnoli di una vita ci svelano, che un nuovo personaggio lascerà la sua popera, ecco di chi si tratta. Tanti nuovi colpi di scena succederanno nelle nuove puntate di Una Vita, la sua popera, che ha appena svelato l'addio di Huertas Lopez, l'amante di Felipe, le trame iberiche ci svelano, che una protagonista lascerà per sempre le vicende del condominio di Acacias 38. Ma andiamo a svelare di chi si tratta, continuando a leggere qui sotto Anticipazioni Una Vita, nuova clamorosa uscita di scena. Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita in onda nella penisola iberica ci svelano, che avverranno clamorosi colpi di scena. Dalle ultime novità scopriamo che il portal e web Vanitatis ha annunciato l'addio di Cristina Abad, l'attrice che dà il volto a Maria Luisa Palacios da oltre 700 puntate. Come anticipato la figlia di Ramon concederà una seconda possibilità a Victor Ferrero, dopo averlo visto baciare Elvira, la figlia del colonnello Valverde tornata ad Acacias 38 dopo tante peripezie. I telespettatori scopriranno che Victor chiederà la mano di Maria Luisa dopo essere scampato alla morte durante un duello con il colonnello. Dagli spoiler ufficiali in nostro possesso scopriamo che Luisa sposerà Ferrero, mettendo a tacere la breve crisi, chi li aveva visti protagonisti in questo ultimo periodo. Una vita, spoiler gennaio, Maria Luisa si sposa e lascia la sua popera dalle anticipazioni delle nuove puntate di Una vita in onda in terra iberica scopriamo che Vanitatis lascia intendere che ci saranno ancora notevoli colpi di scena per quanto riguarda la coppia. Infatti si ipotizza un finale aperto, in quanto non anticipa l'altrettanta partenza di Victor Ferrero interpretato dall'attore Miquel Diosdado. Dagli ultimi spoiler si avvince, che Maria Luisa e Ferrero si accingeranno a partire per Parigi con l'intenzione di recarsi a fare una visita a Juliana e Leandro, diventato nel frattempo un famoso stilista. Se l'uscita di scena di Maria Luisa è certa, quella di Victor è ancora avvolta nel mistero in quanto gli spoileri in questo senso sono molto vari, per saperlo non ci resta che attendere le nuove puntate che andranno in Spagna nei primi mesi del 2018. Precisiamo che per assistere a questa uscita di scena, che siamo certi commuoverà tutti i fans, dovremo attendere ancora un anno visto la differenza temporale. Per sapere se Victor seguirà le orme di Maria Luisa non dimenticatevi di continuare a leggere le nostre anticipazioni su una vita, facendo clic su Segui, sotto il video della news.